Al via le iscrizioni al bando di concorso del Toko Film Fest, la decima edizione del Festival Internazionale di Cinema e Cultura che dal 2014 si svolge nel Vallo di Diano e infatti alle porte. È dunque aperta la call per entrare a far parte del festival e per iscriversi basta andare sul sito Film Freeway, cercare il Toko Film Fest e inviare il proprio cortometraggio. L'iscrizione è aperta fino al 30 aprile prossimo. Sono ammessi cortometraggi di qualsiasi genere purché in possesso di alcuni requisiti, quali una durata massima di 25 minuti, una distribuzione o presentazione dalla 1 gennaio 2021 in poi e sottotitoli in inglese. Alla proiezione dei cortometraggi si alterneranno talk, dibattiti, momenti ricreativi in grado di offrire un ampio ventaglio culturale di esperienze. Il Toko Film Fest è dalla parte del cinema indipendente. La sua proposta culturale si è da sempre contraddistinta per celebrare la creatività e la determinazione dei cortometraggi e per aver affrontato la via del cinema sperimentale e aver dato spazio a realtà audiovisive poco distribuite. L'iniziativa è dunque anche un'importante occasione di confronto culturale e un'opportunità di dialogo ed è un momento per immergersi nella magia del cinema e per vivere un'esperienza appassionante insieme a cinefili ed esperti del settore. La nona edizione ha ospitato giovani e talentuosi attori del panorama cinematografico italiano, tra cui ricordiamo Marianna Fontana, Gea Dall'Orto e Riccardo De Rinaldis. Per quanto riguarda il concorso 2022, il cortometraggio vincitore è stato l'UP di Pablo Polledri, cortometraggio spagnolo. Ora partono dunque le iscrizioni per la decima edizione del concorso che sarà sicuramente un'importante occasione anche per farsi conoscere e per presentare i propri lavori cinematografici.